Un continente in bilico tra apertura e diritti umani calpestati in tante altre parti del mondo e un ritorno dei nazionalismi etnici che limitano le libertà. Questa è l'Europa degli ultimi anni, secondo Agnes Heller, sopravvissuta all'Olocausto e al cosiddetto ghetto di Budapest. È tra i più grandi filosofi contemporanei, erede della grande Anna Arendt alla New School of New York, ieri a Verona per la tappa di un tour che coinvolge tante città d'Italia. Suo spalla fissa è questo giro nella nostra penisola il giornalista Francesco Comina. La vicenda di Agnes Heller inizia molto presto, perché lei è stata una sopravvissuta al ghetto di Budapest, il padre è morto da Auschwitz, famiglia di origini ebraiche, il padre è un intellettuale di un certo rilievo, e quindi ha vissuto questo dramma del totalitarismo nazista, però poi ha fondato insieme ad altri filosofi la scuola di Budapest, che ebbe questa importanza nel cercare di tracciare una nuova strada tra socialismo e capitalismo, una strada appunto dove fossero analizzati i bisogni radicali della persona. Dopo la caduta del muro di Berlino, volle tornare nella sua Ungheria, dove pensava di trovare una situazione tranquilla, ma così non era, ed ha voluto analizzare la situazione dando il suo contributo con due lavori negli ultimi anni, Paradosso Europa e Urbanismo. Invece oggi si trova in qualche modo a dover battagliare contro questo nuovo governo, che lei considera un governo etno-nazionalista, con tutta una serie di elementi che a lei non piacciono, e che appunto ha ricostruito in questo ultimo suo lavoro, che si chiama Urbanismo, che fa appunto un'analisi del fenomeno Orban. Abbiamo vissuto in libertà e senza guerre per due generazioni, ma se i nazionalismi etnici avanzeranno ancora, possiamo immaginarci una nuova Europa con situazioni di conflitto in cui la libertà rischia di essere molto limitata. Dobbiamo ricordarcelo adesso, finché abbiamo ancora una scelta davanti.